Allora, oggi partiamo per Gresson Nei St. Jean Staffan. Vorremmo vedere il Castello Savoia e il Lago di Golgi. Tanta autostrada, ma tanto divertente. Come moto, come siamo messi? Sono tutte onde, tranne che una BMW che però è camuffata da ombre. No, 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 abbiamo! Mi piace l'ho, però è vero, oggi abbiamo tutte BMW e una sola onda. Ecco, perfetto. Allora la Honda la mettiamo per ultima. A presto. A presto. Sì, a presto. Scusate un po' gli amici che sono rimasti a casa. Ciao 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 a tutti, ok. Ciao amici che siete rimasti a casa. Ciao amici che siete rimasti a casa. Perfetto. Perfetto. Grazie per la pagine. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti